Con tutto il rispetto per i vari figuranti, per le varie postazioni che abbiamo visitato, beh, certamente la postazione della Natività è la più importante, Giuseppe, Maria, i Pastorelli e il Bue Lasinello. Siamo in attesa di Gesù Bambino che nasca. Sì, siamo in attesa di questo evento che tutti gli anni si ripresenta, però lascia sempre un messaggio da applicare in tutti gli anni. E questo è un anno, diciamo, che fa da icona tantissimi altri anni. E quindi un messaggio molto importante che la fede va vista in tutte le sue dimensioni e soprattutto, come ha detto il buon nostro Papa Francesco, con la benevolenza divina di volerci bene tutti quanti.